Salve a tutti ragazzi, bentornati su MaxiTV Quest'oggi ho ricevuto un altro pacco Difficilmente più grande da quello dell'altra volta Però il metano è sempre quello Ecco qua Oh, sto scatolone Sto scatolone è veramente grande Spesso ve lo faccio vedere meglio Ecco, non più grande Lo apriremo assieme Allora Scotch è molto togliebile Vediamo assieme il contenuto Aspetta, facciamo così che vi faccio vedere pure le corsi Sì Uh, chissà cosa ci sarà qui Yeah, 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 yeah Oh, dai ragazzi perché è veramente grande E' anche come l'altra volta Inbiettate a sapere quello, ripeto Abbiamo Vediamo Cos'è? Un fumetto di Ultimate Spider-Man Credo che sia vecchissimo questo Questo fumetto Vediamo quando è Volume 2 addirittura E' in omaggio con la Gazzetta dello Sport Tutto in rosa E' molto bello Un giorno magari lo leggeremo insieme Ok, ragazzi Poi abbiamo Poi abbiamo Che cos'è? Abbiamo un libro di Maristella Maggi Il vento si fermò da Auschwitz E' un film sui nazisti, credo Sì, sulla Sulla seconda parola mondiale Credo di sì Infatti Cosa c'è qua? Oh, aspettate, faccio vedere cosa c'è Vediamo Ah no, non è l'importante Ecco qua Settantenne di memoria Si vede lì Sì Molto Ehm La casa editrice è la spiega Credo E poi cosa abbiamo? Un diario Franky Garage, ragazzi Molto, 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 molto Utile Utile E' usato questo E' usato E' usato E' usato E' usato E' usato E' usato Tutta questa pagina è cellulare L'ho capito Ad agosto, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile E' usato Devo muovere Scritto nel sangue Scritto nel sangue Un figlio per diabolico Un figlio per diabolico Ah, questo qua l'ho letto E' molto, molto bello All'ultimo respiro Il rubino scomparso Frigione d'acciaio Anche questo è molto bello Ma l'ho usato pure questo Una pagina strappata Ehi Tamba d'asfalto Infine di bella profezia E' vampiri A Clarville Ok ragazzi Sono sorpresa da questo pacco E' ci vediamo al prossimo video Da MaxiTV è tutto Ciao al prossimo video Ciao